Siamo arrivati all'estate del 1991, mi avevano appena inchiodato il terzo set di ali sul petto, le ali del US Navy, erano le ali di pilota di jet e quindi ero finalmente pronto per poter transitare sugli Ariel e realizzare così un sogno che ormai risaliva quasi a dieci anni prima, un sogno che stavo affrontando con grande entusiasmo, grande passione, grande slancio, tanta voglia di provare queste nuove emozioni, tentare questa nuova avventura sull'Arier, sul cosiddetto AV8B. Fu così che noleggiai un camion dall'orrendo colore giallo, dotato anche di un rimorchio, sul quale caricai tutte le masserizie, tutti i mobili e addirittura anche l'automobile per affrontare questa spedizione da Meridian, che era la base in cui mi trovavo, alla nuova destinazione. Con me c'era anche la mia famiglia, mia moglie Paola seduta sulla mia destra, mio figlio Carlo che aveva soltanto due anni, che era seduto su un seggiolino d'automobile ancorato al pavimento del camion, subito dietro la leva del cambio. Poeraccio non riusciva neanche a guardare fuori perché era tutto al di sotto della sua portata ottica. Fu un viaggio durato due giorni perché si trattò di fare un viaggio di 1300 chilometri con questo camion per arrivare finalmente ad Havelock, nel North Carolina, dove si trovava la base dei Marines di Cherry Point. Cherry, sapete che in inglese vuol dire ciliegia, quindi mi riporta un po' all'origine del mio racconto quando vi parlai dei ciliegi di mio nonno, una interessante coincidenza. Peraltro in questo viaggio rimase molto colpito mio figlio che anche mesi dopo il nostro arrivo a Cherry Point, tutte le volte che era in giro con mia moglie, vedeva un camion giallo, puntava col ditino e gridava Daddy, Daddy, Papà, Papà, pensando che fossi ancora alla guida di questi camion gialli più che a vivere la mia vita di pilota di Ariel. Il tempo di scaricare le masserizie, i mobili e sistemare la famiglia e feci il check-in al gruppo addestrativo, il VMAT203. Qui ho le patch del VMAT203, sono due patch, una in versione chiacchi, una in versione normale, quindi una patch molto semplice e lineare, c'è l'aquila americana appollaiata su una bomba verde. Poi so che questa patch comunque è stata cambiata in qualcosa di più eccitante e dinamico. Il 203 disponeva sostanzialmente di tutti i biposto della versione dell'Arier, quindi il TAV8B, T sta per Trainer, quindi tutti i biposto sostanzialmente erano parte di questo gruppo di volo addestrativo che tuttavia aveva anche i monoposto, quindi i velivoli da combattimento, nella versione AV8B dei ATT&CK, o quindi la versione sostanzialmente utilizzata per il combattimento diurno. Nella base di Cherry Point c'era anche il simulatore degli Arrier, un simulatore che consentiva di addestrarsi in tutte le possibili missioni e anche alla gestione delle emergenze, un aspetto molto importante quando si tratta di un velivolo complesso e peculiare come l'Arier. Il programma di addestramento prevedeva di iniziare ovviamente a volare col biposto, quindi in presenza dell'istruttore che era seduto nel sedile posteriore, in modo tale che fosse più immediata anche la trasmissione delle conoscenze, del sapere dell'istruttore alla pilota in transizione e quindi gestire anche la fase iniziale, quella ovviamente anche più rischiosa, nel modo più sicuro possibile. Una volta conseguita l'abilitazione al volo da solo si passava sul monoposto e sostanzialmente lì si rimaneva e si continuava con la fase più avanzata dell'addestramento. Io abbi la fortuna di avere come istruttore primario, quindi quello che era seduto sul sedile posteriore e mi trasmetteva il suo sapere, di avere il tenente colonnello Mark Savarese, detto ragù, questo era il suo cosign, ragù perché sostanzialmente era di origine italiana, quindi ragù era una parola ben nota negli Stati Uniti che riguardava il cibo italiano, un ufficiale che era fortemente legato all'Italia, fortemente legato agli italiani e che aveva soprattutto una grandissima esperienza di volo con l'Arier e oltretutto aveva anche delle capacità di insegnamento decisamente superiori, grazie anche agli studi universitari che aveva fatto. Quindi direi la persona ideale per conoscere un po' anche quelli che erano i trucchi del mestiere per cercare un po' di domare questo aereo certamente formidabile ma non certo facile da pilotare. Vi avevo detto che la mia esperienza di pilota di elicotteri non mi era stata molto utile durante la mia transizione sui jet, tuttavia devo dire che per la transizione sull'Arier invece la mia esperienza di volo sugli elicotteri che a quel tempo assommava ormai a 2000 ore di volo mi fu davvero molto utile, soprattutto nella fase quella più difficile per i piloti in transizione sull'Arier che è quella del volo stazionario o volo lento in fase in cui se non si ha l'esperienza degli elicotteri, insomma per un pilota puro di aeroplano diminuire di velocità fino poi a portarla a zero insomma suona come stallo, quindi il pilota di aeroplano è sempre molto attento nella riduzione di velocità e poi chiaramente anche le tecniche per poter riuscire a controllare il velivolo in modo ottimale in una fase molto delicata del volo, quale appunto il volo lento e stazionario. Praticamente terminai in tempi brevi questa transizione sull'Arier e fui trasferito immediatamente al VMA 542, il gruppo operativo, il gruppo delle tigri, the tigers, tant'è vero che nella patch del 542, che è questa qua che vi faccio vedere, vedete che c'è la testa della tigre con gli occhi verdi e due fulmini, uno da una parte e uno dall'altra della testa della tigre e queste qua erano le tigri. Questa era invece la patch che si portava sul braccio. Il gruppo di volo VMA 542 era reduce da una recentissima esperienza dell'operazione Desert Shield, Desert Storm. In particolare il gruppo partecipò sin dall'inizio dell'operazione Desert Storm, iniziata il 17 di gennaio del 1991 con l'attacco all'artiglieria irachena che si trovava a sud, nella parte sud del Kuwait e che durò fino al 27 febbraio del 1991. A tutta questa fase, tutta l'operazione, il VMA 542 partecipò attivamente. Peraltro il Secretary of Defense Cohen degli Stati Uniti, parlando degli a vuoto B e il loro impiego in questa importante storica operazione, lì indicò quale uno dei tre top combat system che portarono al successo dell'operazione. Il VMA 542 peraltro si distinse risultando essere praticamente il gruppo di volo che aveva impiegato il maggior numero di munizioni, che aveva effettuato il maggior numero di sortite, sortita vuol dire il volo di un aeroplano, quindi maggior numero di sortite nell'ambito di questa operazione e che aveva effettuato il maggior numero di ore di volo in condizioni di combattimento. Quindi mi ritenevo particolarmente fortunato per essere stato assegnato a un gruppo di volo che aveva tutta questa esperienza di attività operativa in guerra e ovviamente niente meglio della guerra con tutte le sue drammi e quant'altro può di fatto insegnare qualcosa ai piloti militari. Quindi è stata veramente una fortuna per me essere con loro, cercare di assorbire come una spugna tutto quello che potevo assorbire in modo tale da formarmi nel modo ottimale quale pilota di Harrier. Voglio ricordare un fatto particolare, un giorno organizzarono una conferenza per parlare di prigionia, una conferenza che fu tenuta dall'allora capitano, ora in generale, Russell Sunborn, il quale fu preso prigioniero dagli iracheni proprio durante l'operazione Desert Storm. Era il 9 di febbraio del 1991, lui si trovava impegnato in volo per la sua diciassettesima missione di volo, certo il numero 17 evidentemente non gli portò grande fortuna e aveva appena sganciato sei bombe da 500 libre su obiettivi nel sud del Kuwait, obiettivi ovviamente di interesse per il successo della campagna, colpendo dei sistemi di artiglieria degli iracheni. fu colpito da un missile della contraerea irachena, gli spezzarono un'ala in due, l'aereo era in fiamme, fuori controllo, lui si lanciò col paracadute, mentre era in fase di atterraggio in mezzo al deserto, insomma sapeva che i suoi nemici erano in attesa, pronti a dargli il benvenuto con il loro Kalashnikov. Lui aveva al seguito una pistola con 15 colpi, decise così istintivamente di riservare i primi 14 colpi per difendersi da questa dozzina di iracheni che gli stavano venendo incontro e di riservare l'ultimo colpo per se stesso. Poi si ricordò quello che gli insegnarono durante il corso di prigionia e si ricordò che un soldato comunque vale più vivo piuttosto che morto in qualsiasi situazione, anche in una situazione di prigionia. Quindi alla fine fu preso prigioniero e praticamente si fece 26 giorni di prigionia a Baghdad, un periodo di prigionia che lui ci ha raccontato con grande onestà, in cui lo hanno veramente trattato in modo brutale, feroce, lo torturarono, insomma un periodo veramente molto difficile. Particolarmente toccante fu quella scatola di cartone che a un certo punto aprì, dentro questa scatola di scarpe di cartone c'erano proprio delle scarpe ed erano due scarpe da tennis bianche, molto semplici, basse, senza lacci, che gli erano state date dai suoi carcerieri privi di lacci appunto per evitare che lui con i lacci delle scarpe potesse suicidarsi. Quindi il buon Russell ci aprì un po' gli occhi a tutti quanti sulla tematica della prigionia, sul dramma della prigionia, facendoci anche capire quanto è importante aver frequentato dei corsi per prepararsi a un momento che potrebbe accadere a qualsiasi pilota, anche ai migliori, piloti impiegati in un contesto di combattimento, di guerra, in cui l'abbattimento può certamente accadere. Purtroppo a volte la fortuna ci abbandona e può accadere anche questo. Il VMA 542, un altro motivo di fortuna per l'assegnazione a questo gruppo di volo, stava anche nel fatto che questo gruppo di volo fu il primo gruppo a ricevere il primo AV8B+, agli inizi del 1994. Ebbene la V8B+, è una versione direi rivoluzionaria dell'Arier perché aveva il radar integrato, il radar AN-APG-65, che era praticamente il radar che era imbarcato anche sul F-18 Hornet della Marina e dei Marines americani. Quindi un radar che aveva rivoluzionato anche l'impiego tattico dell'Arier sia per quanto riguarda l'attività di ricognizione su terra, ma anche su mare, sia per quanto riguardava le missioni di attacco al suolo e attacco alle navi, ma anche ovviamente nel contesto dei combattimenti aerei, quindi della caccia. Io oltretutto ebbi in questo modo, ebbi anche la fortuna di essere stato il primo pilota italiano a volare con la V8B+, che poi sarebbe stato di lì a poco l'aereo che la Marina Militare avrebbe acquisito per poter armare la sua prima portaerei, sto parlando del glorioso Garibaldi di cui parleremo poi in futuro. Grazie.